cambiamo le magliette porteranno sfiga queste quanti sono questi? questi sono tre bello bravo tiè guarda che palletta quando tiri niente Francis è proprio da testa non è capace pericolo scappato si fa largo della trequarte avversaria attraversione in area capisce tutto e recupera bene che cazzo sta succedendo? parte il tiro che dubbo nel portiere mandela prima il portiere non ho capito che ha fatto non ha fatto due non ha fatto due non ho mai visto una cosa del genere può fare il fenomeno ma è uscito proprio male è rimasto dritto perché è un pezzo di legno cose assurde proprio dai l'ora e mezza l'ora e dalla questo cazzo di pallone riconquistano il pallone avanza la caccia di spazio palla recuperata attenzione totti ha spazio sulla corsia carica il tiro presa comoda per il portiere su questo tiro come la dirà è perdita prosegue la tua azione respinge la conclusione può far gol da lì intercetta anche questa conclusione cazzo sulla fascia tross inutile questo non c'era nessuno oh addio accampo sulla fascia vanna che spiove di ragione dispiace il risultato attenzione depetto 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 guarda questo per passaggio no subito subito no che passaggio guarda che passaggio c'è stata penalità non è mezza però pedalla è morto stanco 8 partite nel giro di un'ora stanco si c'ha 40 anni ma mica 13 bello ma che sei pelerdigno non buttano via il pallone preferiscono aspettare il momento giusto pallone riconquistato possibilità chance per il cross si non crea problemi al portiere può uscire tranquillamente e far quel pallone buono il recupero del pallone no perché non mi hai girato col testo puttana recupero bene il pallone arbitro bello 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 pure francese questo come sempre per se lamentavo che perdemo te credo 17 6 dai 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 tutto pronto comincia la seconda frazione bello ma perché a lui ma perché a lui a lui vai cross al centro interviene bene sul cross interviene bene sul cross interviene in calcetta al passaggio assolutamente no lascia i governi non sono proprio pratici invece è pazzi si va bene si si bellissimo bellissimo è Montella si è Montella era no non c'è credo non c'è credo non abbiamo appena visto la raccoglie la raccoglie è una raccoglie giocata di qualità per intercettare il pallone occhio all'accelerazione Totti Gerrard scendono il fraseggio a forza dovrebbero alzare un po' il ritmo se vogliono trovare il bar perdono il possesso del pallone può ricevere una posizione interessante cerca spazio al centro De Rossi pallone regalato guarda che passaggio che ha fatto questo tocco verticale interessante palla morbida scavalcare la difesa pallone invitante cambia gioco dall'altra parte da guarda cioè io ho levato il pallone ha ritirato questo c'è putteggio che è cambiato ora conducono per due rechi a zero oh vai vai tira può provare da lì è certo ma è il filo del fuorigioco dai dai sono ancora in partita il putteggio adesso è il tuo è rimasto un castore è rimasto un castore è rimasto un castore è rimasto un castore ecco il pressing mettete il pressing cerca il corridoio lo vede? ecco il gol dai aspettavano è l'arrivo del fuorigioco che dà un po' più di tranquillità è usciata per casa male male si è fatto trovare puntuale comunque siamo 3 a 1 siamo 3 a 1 e magari non finirà così hanno spezzato bene ma dopo quello mi ripressava il giocatore lupo e passava è in buona posizione si libera del proprio marcatore che cazzo sarà ne mettete sto pressing cioè è molto pressing che è quello quello è una scopata di vetto e non va ecco l'efficace qui buono recupero possono ricominciare siamo entrati negli ultimi 10 minuti satanati ma devo mancare il tempo del girato di danno può colpire da lì era fallo ma c'è il vantaggio salta la scivolata dietro miracolo del portiere perché ero convinto che non si aspettava vai a vedere o le vai vai ultra offensivo vai o le arrivederci arrivederci grazie grazie